Ti stai chiedendo come convertire o convertire i gradi Celsius in gradi Fahrenheit? In questo video ti mostrerò come convertire facilmente i gradi in Fahrenheit o viceversa. Guida YouTube. Per convertire facilmente e rapidamente da Celsius a Fahrenheit o viceversa, non è necessario un aumento. Su internet. Trovano calcolatori che convertiranno da gradi Celsius a Fahrenheit o viceversa. Ma ne convertono anche uno come Kelvin, K, Rankin, Or, Reomur, Or, Re, Romer, Oro, Delisle, Ode, e Newton, On. In questo caso, è sufficiente cambiare il valore di una scala rispetto alle altre affinché la calcolatrice calcoli i gradi Celsius, Fahrenheit, Kelvin o altri valori.